Per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 ad oggi sono stati impegnati oltre 490 milioni di euro. Per accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, il Dipartimento, è stato detto nel corso della sesta seduta del Comitato di Sorveglianza del Fondo Europeo Agricolo svoltasi a Picerno, ha impegnato 217 milioni di euro, ma alle imprese del settore sono stati erogati solo 111 milioni. Diverse le misure per il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, per un investimento rendicontato di circa 230 milioni di euro sulla bilancio del PSR, con circa 298 milioni impegnati. Tra le criticità, la congiuntura economica sfavorevole, la mancanza di credito da parte delle banche e alle imprese private, la lentezza nel realizzare gli appalti da parte degli enti pubblici, le alluvioni che nel corso dell'ultimo periodo hanno colpito le aziende agricole del Metapontino, non consentendo di terminare gli investimenti intrapresi. C'è preoccupazione, il rischio è quello di restituire a Bruxelles 35 milioni di euro. Quest'anno si evidenzia una notevole difficoltà da parte sia degli imprenditori privati che delle pubbliche amministrazioni a realizzare gli interventi e quindi a fare spesa. Io spero che negli ultimi dieci giorni, come negli altri anni, sia avuta un picco nelle domande di pagamento, spero che quest'anno ci siano. Su proposta dell'assessore alle infrastrutture Luca Braia, la Giunta regionale ha deliberato la richiesta a governo per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito della frana avvenuta a Montescaioso in località Cinque Bocche dopo le recenti alluvioni. Nella zona, infatti, è stato ordinato lo sgombero di diverse abitazioni, opifici e attività commerciali. È stata interrotta inoltre la viabilità secondaria ed è la strada principale che collega l'abitato con la strada provinciale 175 e con la strada statale 7. Per dare avvio alla messa in sicurezza dell'area, il governo regionale ha disposto l'insediamento di un tavolo tecnico per giovedì 12 dicembre a Montescaioso. Siamo di fronte a una situazione straordinaria, ha commentato l'assessore Braia, che necessita di interventi urgenti per ripristinare le condizioni di normalità sia per le famiglie, sia per le aziende commerciali e artigianali che hanno subito danni. Una maggiore qualità ambientale è l'obiettivo della gestione e comprensione reale dei rifiuti, di cui hanno discusso i 12 comuni dell'ex comunità montana Alto Agri e Castel Saraceno. A Villa d'Agri, in una riunione per attuare il progetto che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo Val d'Agri e la Giunta Regionale hanno già approvato. Il lavoro ottimizzerà i costi, garantendo maggiori benefici per i cittadini e permettendo la collaborazione con i conai. Nello specifico, il lavoro, già approvato dal Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio, renderà efficiente il sistema di raccolta differenziata, completando gli sforzi dei comuni più attivi con lo smaltimento della frazione organica e potenziando le attività delle amministrazioni meno organizzate. Come evidenziato nella riunione, si rende necessaria una gestione più efficiente al processo che va dalla raccolta del rifiuto al suo smaltimento o recupero. Inoltre, i primi cittadini vogliono adoperarsi in maniera celere e congiunta verso la gestione comprensoriale. Il nuovo sistema di organizzazione prevede la costituzione di un'entità sovracomunale per gestire l'intero processo di smaltimento dei rifiuti, un modo per alleggerire le singole amministrazioni e poter beneficiare dei vantaggi di una contrattazione di area. In merito al dibattito venutosi a creare in questi giorni circa la richiesta di alcune associazioni ambientaliste di revocare l'autorizzazione concessa a Leni per il proseguimento delle attività di scarico delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 perché preoccupate dei possibili danni ambientali che l'attività può comportare, il Dipartimento Ambiente della Regione ha fornito delle precisazioni. I presunti fenomeni di inquinamento nell'area circostante il pozzo Costa Molina 2 ha fatto sapere il Dipartimento, sono in corso di verifica anche da parte dell'ARPAB e i risultati di queste verifiche recentemente resi pubblici dalla stessa ARPAB non mostrano significative relazioni con l'attività di reiniezione. Le prescrizioni proposte dall'Ufficio Ciclo dell'Acqua riguardavano complessivamente, ha spiegato il Dipartimento Ambiente, il procedimento autorizzativo per l'utilizzo di un nuovo pozzo di reiniezione e la prosecuzione dell'attività per quello già in uso da circa un decennio. Massime precauzioni sono state prese in considerazione per la nuova attività. La soppressione di tre treni non è piaciuta al rieletto consigliere regionale Francesco Mollica, l'esponente politico dell'Udc infatti denunciando la decisione ha anche ribadito che si tratta di un fatto che danneggerà non solo l'area del Marmoplatano ma l'intera Regione e il relativo sistema di trasporti. Per Mollica occorre mettere in atto una dura avvertenza nei confronti di Trenitalia poiché è necessario porre un'argine a già tanti disservizi che i lucani sono costretti a subire ogni volta che si trovano a dover affrontare un viaggio in treno. Il consigliere inoltre pone l'accento sul fatto che le linee soppresse su ferro saranno sostituite su gomma non da società lucane ma campane o pugliesi, cosa che, stando alle dichiarazioni di Mollica, sembrerebbe un vero e proprio atto di colonizzazione e un oltraggio all'economia locale già fortemente segnata dalla crisi. La riqualificazione degli spazi culturali esistenti rappresenta una buona occasione per restituire alle città luoghi dove poter vivere esperienze culturali rilevanti e di questo avviso il consigliere uscente Leonardo Giordano, anche componente del Consiglio di Amministrazione del Comitato Matera 2019, che ha accolto favorevolmente la proposta del direttore del Conservatorio di Matera, Saverio Viziello, affinché si possa pensare di recuperare il Cineteatro Comunale e il Cineteatro Duni di Matera. Per Giordano, infatti, si tratta di autentici gioielli che meritano di essere riqualificati, piuttosto che inseguire il sogno di costruire un teatro nuovo secondo l'esponente politico, proprio in occasione di Matera 2019 sarebbe il caso di pensare a riqualificare l'esistente, anche perché si tratta di spazi in grado di soddisfare tutte le esigenze in relazione agli spettacoli. Un'indagine geostorica per riflettere sul ruolo esercitato dalle riforme istituzionali che hanno plasmato la realtà lucana. È il lavoro condotto da Maria Luisa Santarsiero sulla Basilicata nel mosaico regionale, la geografia politico-amministrativa del territorio lucano in una dinamica di lungo periodo, pubblicata nella collana I Quaderni a cura del Consiglio regionale. Ripercorrendo la genesi secolare della maglia politico-amministrativa locale, caso atipico nel contesto del Mezzogiorno continentale, l'autrice permette di rintracciare le radici storiche dell'identità regionale. A fronte di un tendenziale immobilismo, le trasformazioni introdotte nell'arco temporale che va dalla fine del XVIII secolo ai giorni nostri, quale ad esempio il decennio francese, l'unità, il fascismo, la Fondazione e la Repubblica, l'istituzione dell'ente regione nel 1970, hanno favorito la coesione sociale e hanno consentito, nel corso della storia più recente, di evitare spartizioni territoriali. Nuova vita al Castello di Balvano, d'architettura fortificata ridotta in rudere ad Accademia di Moda. Un ambizioso progetto di restauro, recupero e valorizzazione della struttura medievale, in armonica sintonia tra forme antiche e moderne, tracciato da Manuela Scavone nella tesi intitolata Il Castello di Balvano, una nuova identità per un monumento abbandonato, pubblicata nella collana I Quaderni a cura del Consiglio regionale. La raccolta delle fonti sul feudo appartenuto alla famiglia di Balvano nella seconda metà del XII secolo e poi dei Cafraia, degli Alemanna, dei Ruffo, dei Giovene e dei Pavise e sul suo baluardo difensivo, già attestato nell'XI secolo, la ricerca documentaria, lo studio filologico e l'analisi dei caratteri fisici e tecnologici accompagnano nella scoperta di un manufatto di valore architettonico e civile che può rappresentare una risorsa per il territorio. Innovativa la destinazione d'uso, ma perfettamente compatibile e rispettosa dell'essenza autentica del castello.